Una volta per fare i miei acquisti ero costretta a girare per ore e ore in cerca di qualità, assortimento, convenienza e poi non ero soddisfatta perché non potevo scegliere. Adesso vado al centro commercio di Caracoglia Antonino, dove trovo un vastissimo assortimento di abbigliamento, corredi, tessuti, neonato, pronto moda e così ho risolto tutti i problemi perché trovo scelta e convenienza. Centro commercio di Caracoglia Antonino, via Lembo 40, Melito Porto Salvo, telefono 0965 78 10 84. Fate anche voi come me, risparmierete tempo e denaro.